18 dicembre 1932, con una solenne cerimonia alla presenza del duce, viene inaugurata l'Hittoria, l'attuale latina. Consideriamo compiuta la prima tappa del nostro camion. La fondazione della città è uno dei fiori all'occhiello della propagandata bonifica dell'agropontino, ultima fondazione di città nella vecchia Europa. A popolarla sono per la maggior parte coloni veneti, friulani ed emiliani.